Ecco la condizione del parco Andersen dopo 2-3 anni di amministrazione che ha assolutamente lasciato nel degrado più assoluto questo parco con questo risultato, neanche l'erba è stata tagliata. Purtroppo non è solo questo parco, ma c'è il parco in via Tavo che è assolutamente abbandonato e distrutto, c'è quello in via Terno che è il parco della pace che non è assolutamente curato e tanti altri parchi nella città. La politica dei parchi dell'amministrazione comunale a guida Mascia è questa, allora una città che noi crediamo si qualifica per come cura e tratta i parchi, possiamo tranquillamente dire che questa amministrazione non ha nessuna cura per i parchi e quindi per i cittadini in particolare, quelli più piccoli, i bambini e per le loro famiglie. Noi abbiamo presentato un'interrogazione chiedendo conto all'amministrazione di questo risultato perché i parchi poi si fanno anche con soldi pubblici e non solo, ma anche con privati come questo parco qui, non è consentito a nessuno ammalorare ciò che è di tutti.